E una buona giornata anche oggi gloria a nome del Signore mercoledì 23 febbraio 2022 voglio darti una bella notizia almeno bella per me però io la voglio condividere anche con te in questi ultimi periodi sto chiedendo al Signore di avvicinarmi di nuovo al paese di Caltagirone nel mio paese dove io sono nato e dove Dio mi sta dando la grazia di poterlo servire nella chiesa proprio delle congregazioni cristiane pentecostali di Caltagirone e voglio dare gloria a Dio perché il Signore ha aperto una strada mi sono avvicinato al paese quindi da oggi in poi abiterò a Caltagirone quindi da oggi in poi i miei video saranno fatti sempre a Caltagirone in questo momento mi trovo a casa dei miei genitori a breve affitteremo una stanza con Lorena per andare con mia moglie ovviamente per andare a vivere insieme quindi saranno qualche giorno così di permettetemi il termine di tribolamento però poi ci stiamo sistemando e grazie a Dio voglio dare gloria a Dio per questo perché sapete nella Bibbia c'è scritto una cosa e se il Signore apre una porta nessuno la può chiudere e se il Signore chiude nessuno la può aprire quindi io voglio ringraziare Dio per avermi aperto questa porta per avermi avvicinato a Caltagirone e per potermi dare questa immensa gioia di poter servire Lui nel paese dove io sono nato e rinato spiritualmente Dio ci benedica fratelli sorelle amico o amica che state guardando questo video ora ascolteremo il versetto della parola di Dio che questa mattina come ogni giorno ci viene proposto dal calendario cristiano il buon seme quindi apriamo i nostri cuore perché Dio vuole parlare ad ognuno di noi quindi dice così la parola del Signore stretta e la porta è angusta la via che conduce alla vita Vangelo di Matteo capitolo 7 verso 14 il titolo di questa meditazione biblica è 7 false idee sulla vita cristiana ed è il terzo video che completa questo ciclo di false idee della fede cristiana che maggior parte delle persone hanno in cuor proprio quindi vogliamo ascoltare questa meditazione vogliamo scoprire per quale motivo questa persone la pensano in questo modo e per quale motivo la bibbia risponde in una maniera meravigliosa a Dio sia la gloria qualcuno dice sono molte le religioni che pretendono di possedere la vera fede i cristiani sono coloro che riconoscono in Gesù Cristo il figlio di Dio e lo accettano come loro personale salvatore e signore essi formano nel loro insieme la chiesa di Gesù Cristo ma l'unità dei cristiani che sarebbe rilevante se fosse più visibile non può essere costruita artificialmente i gruppi che si autodefiniscono cristiani ma perseguono obiettivi diversi da quelli di onorare Gesù Cristo e di servirlo non sono da considerare cristiani la vera chiesa è quella che Gesù Cristo stesso ha formato essa è costituita da tutti coloro che credono davvero in lui e che Dio conosce perché solo lui conosce conosce i cuori proprio come scritto in atti 15 verso 8 e Dio che conosce i cuori rese testimonianze in loro favore dando lo spirito santo a loro come a noi qualcun altro dice credere in questo modo è troppo facile non è come può sembrare a prima vista indubbiamente la fede è alla portata di tutti è il mezzo per essere salvate è in apparenza molto semplice perché è sufficiente accettare Gesù Cristo come salvatore ma questo implica confessare a Dio la propria condizione di peccatore e ammettere l'incapacità di guadagnarsi il paradiso con i propri mezzi la vera fede implica una capitolazione una resa della creatura un abbandono totale nelle braccia del creatore alcuni ritengono che la fede in Gesù Cristo sia una soluzione di comodo per sfuggire alle angosce e per non aver paura della morte la Bibbia è molto chiara su questo punto perché afferma perentoriamente che dopo la morte viene il giudizio proprio come scritto nella lettera agli ebrei capitolo 9 verso 27 ma afferma anche chi crede in lui in Gesù Cristo non è giudicato chi crede nel figlio ha vita eterna in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati atti degli apostoli capitolo 4 verso 12 soltanto coloro che hanno creduto tutto questo possono essere chiamati cristiani quindi questa meditazione porta a fare in noi stessi un'auto analisi sono veramente un cristiano e allora due più due deve fare quattro non può fare cinque altrimenti c'è qualcosa che non va nei conti quindi sono un cristiano realmente? sì allora il cristiano è chiamato ad amare Dio con tutto il proprio cuore con tutta la propria anima con tutta la propria forza ed è chiamato anche ad amare se stesso e gli altri qualcosa di straordinario ma che è impossibile senza una vera e propria rinascita spirituale poniamoci le giuste domande e riflettiamo sulla nostra vita perché queste domande sembrano innocue sembrano superficiali ma determinano e determineranno la nostra eternità Dio ci benedica una buona giornata e pace del Signore a te